Anni di piombo a Padova raccontati in maniera diversa attraverso anche un'amicizia con Sabino Acquaviva. In effetti io lo conobbi al tempo degli anni di piombo quando lui fu mio docente di sociologia e poi dopo l'esame di sociologia si è sedimentato, si è una certa conoscenza, una certa amicizia che io ho continuato a portare avanti nel tempo e quindi io mi affacciavo nel suo studio e parlavamo di teatro, di cinema eccetera, però lui mi parlava spesso del problema della rivolta e della contestazione studentesca e lì già allora faceva delle ipotesi un po' eterodosse rispetto ai giornali e rispetto alle analisi dei sociologi in generale. Nel film che lei ha voluto fare emergono queste analisi come le definisce lei eterodosse anche perché questi anni di piombo sono stati rivisitati, riletti, rianalizzati anche con lucida obiettività anche da altri film locali e quindi è l'interpretazione di Acquaviva che c'è nel film o anche un ulteriore tentativo di dare una valutazione di quei fatti il più lucida possibile? No, la cosa che distingue Acquaviva dagli altri, dalle altre situazioni diciamo di osservazione del fenomeno è il fatto che lui ha catturato i momenti del nascere di questa rivolta e quindi non dopo Quando non era ancora armata? Quando si stava costruendo l'ipotesi di un'insorrezione armata contro lo Stato e questi studenti si confessavano proprio con lui, entravano nel suo studio e parlavano delle motivazioni profonde che inducevano loro questa aggressività e queste cose e lui ha scritto un libro proprio su queste confessioni che è Sinfonia in Rosso e che è stato diciamo il carburante principale per la realizzazione di questo lavoro ma la cosa importante è che lui ha stimolato questi ragazzi in modo da avere da loro anche una specie di confessione autentica Ma ha cercato in qualche modo di fermarli perché poi insomma gli anni di Piomba Padova hanno fatto morti hanno fatto feriti, hanno fatto appunto lotta armata in qualche modo o non era un suo compito? Cioè come si pone di fronte a questa visione di qualcosa che stava esplodendo e cioè non basta essere un padre confessore? Lui era scienziato allo Stato puro, cioè osservatore del fenomeno cercando di catturarne le leggi come fanno gli scienziati diciamo allo Stato puro senza essere cattivo maestro e senza parteggiare per lo Stato o parteggiare per la rivolta lui ha tentato di valutare il fenomeno della ribellione interrogando questi ragazzi che stavano costruendo questo movimento parlo degli anni dal 75 all'80 ecco e lui vedeva nelle frustrazioni infantili, nelle istituzioni, nel clima familiare quello che erano gli elementi fondamentali di questa ribellione non tanto legata diciamo al momento storico politico tutta questa aggressività che il giovane ha e lui ne parla nel film si carica nel mercato delle ideologie allora presenti e allora diciamo l'ideologia fondamentale era il marxismo-leninismo Perché questo film è un omaggio ad Acqua Viva o una nuova voce su anni di piombo ma che io posso dire anche, potrei dire insomma anni buie perché proprio la mostra del cinema e anche con l'appoggio poi di quelle che sono le film commissione regionali Sì, diciamo che il progetto è partito dall'Università di Padova dal Dipartimento dei Beni Culturali che ha gestito la parte diciamo ideativa del progetto mentre la parte produttiva è stata affidata a Michele Parisi che è un produttore e la consulenza scientifica ad Alberto Zotti Ecco, come le dico, l'idea è venuta perché intanto è un periodo rimosso non se ne parla molto degli anni di piombo a Padova basti pensare che allora dal 77 all'80 ci furono circa 500 attentati e quindi non pochi con diciamo morti e feriti insomma quindi un periodo da valutare però diciamo la Padova allora era abbastanza indifferente al fenomeno mentre dentro all'università c'era questa turbolenza non solo dentro all'università di Padova la cosa diciamo fondamentale che poi emerge dal film che ha avuto un successo alla mostra di Venezia perché è stato visto da docenti di storia e da docenti di sociologia che poi hanno intrecciato un dibattito estremamente interessante dal punto di vista storico e dal punto di vista sociologico la cosa interessante è che Acquaviva non credeva già allora e lo testimoniano i libri di allora che un modello ideologico come il marxismo-leninismo cioè un modello diciamo romantico, ottocentesco potesse guidare una rivolta dare slancio a un rinnovamento che era necessario insomma allora e quindi lui vedeva già in toni negri e in tutta l'impalcatura di allora una struttura e un progetto destinato a finire Un'ultima cosa, è un docufilm o un omaggio a un amico? È un omaggio a un amico ed è anche un docufilm perché intreccia diciamo una lunghissima intervista con Acquaviva a delle ricostruzioni che io ho realizzato con degli allievi attori di un laboratorio del Dams Ok